Salve a tutte e tutti, oggi il vostro San Ten Chan vi presenta un video tutorial di come fare delle tagliatelle squisite squisite casarecce con sarebbe burro formaggio perché a volte fare le cose più basilari serve di più che fare le cose più elaborate perché se sei capace a fare le cose più semplici farai le cose più complicate benissimo soltanto che io ci faccio una variante la mia variante è olio parmigiano perché sono un po sovrappeso e mi voglio curare le coronarie perché il grasso animale troppo grasso animale vabbè allora passiamo non ho portato il treppiede qua nella cucina comunque anche comodo filmarsi col cellulare così in mano piuttosto che col treppiede anche perché poi dovrei coordinarmi meglio comunque come ogni cuoco che si rispetti mi metto il cappello e il grembiule con le posate no per fare vedere che sono un cuoco non un infermiere capito o magari potrebbe essere il grembiule di un macellaio o di un pescivendolo invece no siccome c'è alle posate e poi mettiamoci ecco qua nel mezzo alla fronte credo che che sia così no non in busta così che te frega che te frega passiamo finalmente a cucinare mi raccomando durante questa premier se volete aiutarmi a fare più video tutorial di gastronomia casareccia e durante questa premier qua avete l'opportunità di intervenire nella chat con dei super chat che saranno delle chat evidenziate in colore più pagate più saranno evidenziate e con gli sticker anche quelli saranno evidenziati più pagate poi se vi abbonate al canale nella chat nei commentari i vostri commentari i vostri interventi saranno fissati e mi raccomando comprate i super grazie in questo modo i commenti poi quando questa premier sarà un video o anche durante la premier saranno evidenziati i commenti sotto il video ma se voi comprate super chat a seconda di quanto spendete saranno evidenziati anche sopra se non mi sbaglio non soltanto nella chat però se siete abbonati e comprate super chat a seconda di quanto saranno fissati durante tutta la chat a meno che non arrivi qualcuno e non spenda di più così più o meno insomma ecco qua ero tentato di metterci anche delle uova ma quella ricetta la farò in un secondo tempo e adesso bisogna adesso bisogna accendere il fuoco della della pentola ci sono riuscito accensione dal vivo e adesso e adesso bisogna aspettare che l'acqua bisogna aspettare che l'acqua bollisce perché se no è inutile buttarci la pasta purtroppo purtroppo la cucina richiede i suoi tempi stando in cucina bisogna innanzitutto sapere per prima cosa che bisogna avere pazienza senza la pazienza non si va da nessuna parte senza la pazienza purtroppo è così bisogna appazientare l'acqua deve bollire era arrivata a bollizione prima però forse la cambio di fuoco è meglio purtroppo così la pazienza regna sovrana e la virtù dei forti e soprattutto dei cuochi ma adesso si sta bollendo l'ho cambiato di fuoco intanto prepariamoci prepariamoci piatti mi va di prendere questo mi va di prendere questo perché dice fusilli pasta ravioli pasta ravioli pasta fusilli non so perché due volte pasta e ravioli e fusilli e non pasta penne ecco e qua prendiamo io voglio filmare con la camera principale in 8k vedrà un video pesantissimo qua prendiamo uno me ne faccio due perché sono adesso mangio solo solo io sto sovrappeso vediamo un po mi sembra che è arrivata in ebollizione l'acqua l'acqua sta in ebollizione come potete vedere io ho tolto la custodia del cellulare e lanciamo lanciamo ecco qua tutto la custodia del cellulare perché su riscaldarsi su riscaldava la pasta l'acqua cial sale ho lanciato la pasta non non partiva la camera forse si sta su riscaldando in cucina ecco la pasta la pasta adesso facciamo così con la forchetta perché si scioglie si è idratata e adesso vedete come vedete come si apre nella pentola chissà quanti minuti di cozione ecco qua questa dovrebbe essere sufficiente per me perché poi si idrata adesso adesso non si ferma più cellulare è sempre più caldo si vede che filmando in 4k e 8k si surriscalda la prossima volta impiegherò un altro dispositivo sempre che faccia un altro tutorial di gastronomia casareccia perché io consumo i miei artefatti nel corso degli anni e poi che faccio non sempre ho per comprarmi un altro cellulare allora mi raccomando se vi piacciono i tutorial di gastronomia casareccia questo vi piace sovvenzionatemi quindi non funziona non funziona il tasto adesso abbiamo già scolato la pasta qua come potete vedere perché non si bruci nulla ecco devo fare con due mani la prossima volta se faccio un video così mi raccomando sponsorizzate mi raccoliamo è venuta poca vabbè che solo per me però sponsorizzate mi se volete un altro video tutorial di gastronomia casareccia qua nel piatto già ci ho grattato un mucchio di formaggio di parmigiano reggiano ci ho messo una noce di burro uguale non vi posso fare vedere come giro cioè non come giro io sto girando in cucina ma come miscelo il tutto e qua ci mettiamo un filo che aspetta che ecco un filo abbondante diciamo inondato con dell'olio extravergine di oliva ciò il cellulare caldo come un ferro da stiro perché ho registrato molto in 4k e 8k comunque adesso andiamo a provare andiamo a provare un po qua la mia pasta è venuta poca pasta e molto condimento formaggio e burro e olio quindi dovrò mangiare dei biscotti anche se non volevo come è venuta come sono venute le mie fettuccine adesso proviamo non uso il tripode perché ancora ci devo prendere la mano però ecco qua pronto provo per voi e mi raccomando finanziatemi così potrò fare altri video e magari migliori di questo buono mia madre è andata a fare la spesa quindi mi sono cucinato io e quindi come dire quando te la fai tu la pasta è sempre buona diciamo per pasta burro formaggio olio alla fine ho fatto così adesso mangio poi chissà ieri ho editato l'altro ieri un video sul bardo todol ma presso 4 5 ore tra farlo caricar editarlo caricarlo adesso chissà questo video quando mi prende perché è stato girato in 4k e 8k le parti non in hd come il video di ieri quindi questo chissà forse se dovrò ridurne non non uscirà in 4k mi raccomando finanziatemi grazie super grazie super grazie sticker super chat abbonamento ciao adesso finisce ci vediamo ci risentiamo arrivederci adesso c'è dei problemi